oh mio dio ragazzi non ci posso credere non ci posso credere altro shiny shiny medicine stavolta oh my god si vado subito di velosbull ignorante vediamo si va bene dai 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 1 2 3 sì 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 perfetto perfetto medicina ora aggiungo il team e lo proveremo no niente sì al posto di senero ok perfetto diremo un'occhiata medicina c'è in con contrattacco inganno forse contropiede ripresa guarda gli altri bb e ora testeremo che ora torniamo indietro e andiamo a testarlo ottimo perfetto ottimo ottimo perfetto ovviamente il museo nelle migliori e non è potuto andare meglio testiamo dai 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 peri peri per sa che ci fa forno vediamo che danno di fa niente 244 non li faccio nulla non li faccio nulla giudizio 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 mando no mica si servisce un bel per quattro e fuori facciamo subito fuori un bel per quattro e per i perci salute ottimo perfetto e museo nelle migliori non è però vabbè è uno shiny quindi le rivi sono buono le statistiche anche da fondare 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 e niente da me è tutto da me è tutto da mattia alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti